la prestigiosa pianista cristina barbuti ha denunciato il dramma che sta vivendo dopo la somministrazione di un prodotto elaborato dalla compagnia astrazeneca cristina barbuti ha perso l'udito e non può camminare da sola sono andata ad incontrare un evento inimmaginabile per me la perdita dell'udito quindi la perdita della musica il vaccino sembrava che salvasse la vita in verità quello che mi è successo la sordità che è stata è apparsa circa dieci giorni dopo il vaccino di astrazeneca quindi sfortunato che ci capita e questa è stata la mia risposta che ho ricevuto devo poter continuare amaramente però a credere nelle istituzioni e nella relazione stato cittadino perché perché non ho scelta con tutto il nostro rispetto e comprensione per la signora barbuti ci permettiamo di affermare che una buona ragione per credere ancora nelle istituzioni sarebbe l'investigazione da parte dell'autorità giudiziaria dei fatti riportati negli ultimi giorni secondo i quali l'allora direttore dell'aifa e l'allora ministro della salute si sarebbero opposti all'ordine di sequestro di un lotto sospetto dopo la morte di tre militari grazie grazie grazie